ciao a tutti oggi ho preparato uno scherzetto per voi lo sapete bene che alla nonna piace scherzare scrivete insieme a me i topi non avevano nipoti ed ora leggetela al contrario con calma e senza fretta che cosa avete letto esatto è sempre la stessa frase facciamoci insieme una bella risata un saluto e a presto